Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Tragedia in Aquatorici, schianto fra due camion all'altezza di Cattolica, un morto e traffico bloccato per ore Arrestato un pesarese di 21 anni per spaccio di droga a Gabice Momenti di tensione questa mattina tra vicini di casa a Fanno, una situazione di degrado che si protrae da diverso tempo Al Santa Croce di Fanno inaugurati le sale del blocco operatorio e del polo endoscopico Successo per Colorala Vita, 900 persone per promuovere la donazione di sangue Buonasera cari telespettatori di Fanno TV, benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Iniziamo con la cronaca come di consueto che ci porta in autostrada in Aquatorici questa mattina Poco dopo le 8, traffico in tilte e code di chilometri per un grave incidente stradale Incidente stradale mortale questa mattina in Aquatorici nel tratto tra Riccione e Cattolica in Corsia Sud direzione Ancona al chilometro 143 prima dell'uscita di Cattolica A perdere la vita è stato un uomo di 63 anni di salutecio ma residente a San Giovanni in Marignano passeggero di un camion Iveco 50 quintali condotto da un 36enne anch'esso di San Giovanni in Marignano che per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia autostradale del compartimento di Forlì ha tamponato violentemente un autocarro Volvo che con grande probabilità stava per immettersi nello svincolo di Cattolica condotto da un cittadino indiano residente nel Cremonese di 49 anni Sul posto oltre alle pattuglie della polizia autostradale anche una squadra dei vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato al Bufalini di Cesena anche l'autista del mezzo che ha tamponato, il leso invece il conducente dell'autocarro tamponato Data l'ora e l'alta intensità del traffico legato al periodo estivo notevoli sono state le ripercussioni sul traffico autostradale con diversi rallentamenti e code di diversi chilometri fino a tarda mattinata I carabinieri della stazione di Gabice Mare hanno arrestato in flagranza di reato un ventunenne pesarese disoccupato già noto alle forze dell'ordine ritenuto responsabile di detenzione illecita, di stupefacente L'uomo nel fine settimana è stato sorpreso all'interno della sua abitazione in compagnia di altri due giovani coetanei di Gabice e di Tavulia mentre consumavano uno spinello Erano stati landi rivieni di gente ad aver insospettito i militari dell'arma rinvenuti nell'abitazione anche 62 grammi di hashish 40 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento di dosi e la somma di 890 euro in banconote di vario taglio ritenuti provento dell'attività dello spaccio L'uomo è stato condotto nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro e il GIP del Tribunale dopo aver convalidato l'arresto ne ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana ai carabinieri di Gabice Mare in attesa del processo E momenti di grande tensione questa mattina affano per una situazione, una convivenza tra vicini, problematica vediamo che cosa è successo Sono molteplici le sfaccettature del disagio sociale e personale e se le combiniamo con una condizione di fragilità emotiva abbiamo infinite varianti che spesso entrano in conflitto con il contesto sociale ed urbano nelle quali si verificano e che collidono anche con le normali regole del vivere comune Nelle grandi città questi contesti di degrado e di debolezza sociale rappresentano una costante meno frequenti e più evidenti invece sono nelle città medio piccole come Fano dove uno di questi contesti da molto tempo è sotto gli occhi e l'attenzione sia delle parti sociali e della comunità e che ogni contatto con il vivere comune non fa altro che rendere incandescente la situazione come stamattina quando intorno alle 7.30 un camion per esigenze di cantiere è dovuto passare accanto alla proprietà di una di queste famiglie Sono persone che hanno delle limitazioni e purtroppo per una vecchia sequestione di confini sono rimasti molto diciamo arrabbiati e quindi ogni volta che c'è da fare l'accesso nella loro strada succedono queste cose ovviamente è una situazione di grave disagio sociale perché lo vediamo anche da quelle che sono le condizioni e per quanto tutte le forze siano insieme unite a fare questo tipo di intervento comunque ci scontriamo con il diritto degli uomini Una situazione che si protrae da diversi anni con una comunità in allarme per la difficoltà sia nel rapportarsi che nel gestire le inevitabili conseguenze di questa situazione I toppi, i ratti come lo volete chiamare è pieno, 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 pieno e poi la sportizia, il fumo che ogni tanto brucia qualcosa non si sa cosa e quella pianta là che noi abbiamo paura che da un momento all'altro cade lui adesso sta allargando tutti i confini là per quasi un metro, non so quanto sia perché dice che è tutta roba sua e ho chiamato l'ufficio tecnico non so se è visto ossia se si è visto non lo so ma non ha fatto sapere niente i vigili non hanno fatto sapere niente il comune sa di tutto e non fa niente noi più di così non sappiamo cosa fare Cambiamo argomento è di 250.000 euro la somma che tra i decentri della Valle del Cesano e del Metauro si sono giudicati con il bando regionale sulle azioni a supporto della gestione di servizi delle amministrazioni pubbliche un successo che questa mattina è stato condiviso nella sala del Consiglio di Mondolfo dove i sindaci che avevano deciso di aderire hanno voluto esprimere la propria soddisfazione i finanziamenti serviranno per portare alla completa digitalizzazione questi enti locali ed il bando regionale consentirà ai comuni di avviare importanti percorsi ad esempio potranno partire le procedure per il pagamento elettronico e la conservazione digitale i finanziamenti regionali sono destinati quindi ai comuni di Cartoceto Colli al Metauro Fossombrone Fratterosa Mondavio Mondolfo Monteporzio Pergola San Costanzo San Lorenzo in campo Sant'Ippolito Terre Roveresche Unione dei Comuni della Valmetauro e l'ordine dei medici di Pesaro ha sospeso venerdì sera per sei mesi il dottor Massimiliano Mecozzi il medico 55enne omeopata che nel maggio scorso curò uno tite di cui era affetto un bimbo di 7 anni di Cagli con la sola omeopatia la decisione della sospensione per la violazione degli articoli 15 e 33 del codice deontologico dei medici non è immediatamente efficace vista la possibilità che ha Mecozzi di impugnare il provvedimento di fronte ad un organismo d'appello nazionale la decisione è stata presa dopo una riunione fiume della Commissione Disciplinare Provinciale dei Medici presieduta dal dottor Paolo Battistini conclusesi a mezzanotte e mezza due le incolpazioni contestate al medico non aver curato il bimbo al meglio garantendo la guarigione ossia somministrando antibiotici di fronte all'aggravarsi della patologia e di non aver informato i genitori dei rischi che il piccolo stava correndo e torniamo ancora una volta ad occuparci di un'area che spesso passa nelle nostre immagini quella dell'ex area dell'aeroporto di Fano meta di scellerati che ci lasciano di tutto ormai non bastano più le dita di due mani per contare le volte che siamo stati al vallato nella zona dell'ex aeroporto per riprendere immagini di scarico abusivo di rifiuti derrate alimentari ancora buone provenienti dalla comunità europea pezzi di auto vecchia lavatrice divani televisori andati a pezzi l'elenco è sterminato stamattina si aggiungono altri pezzi alla collezione iniziamo con dei cartelli stradali con autorizzazioni del comune di Fano del 2011 per doppio senso di marcia alternato un bel divieto di sosta precedenza e direzione obbligatoria e specchio parabolico e immancabili birilli in gomma insomma ci si può fare una scuola guida a cielo aperto e finiamo con scarti di materiale edile con tanto di tazza del gabinetto tra le frattaglie e vecchi mattoni e altre masserizie vallato ex aeroporto la storia infinita dei rifiuti abbandonati parliamo di sanità sono stati inaugurati nel pomeriggio di oggi il blocco operatorio e il polo endoscopico del presidio ospedaliero Santa Croce di Fano i nuovi servizi sono collocati al piano semi interrato del padiglione C l'investimento di 5 milioni e 300 mila euro è stato sostenuto con i fondi della regione Marche la collaborazione della fondazione Cassa di Risparmio di Fano per quanto riguarda in particolare le attrezzature la regione ha garantito 4 milioni e 690 mila euro mentre la fondazione con 610 mila euro ha sostenuto un terzo della spesa relativa alle apparecchiature del polo endoscopico e il vice presidente del consiglio regionale delle Marche Renato Claudio Minardi ha dichiarato in una nota che sono queste dotazioni di eccellenza sono la dimostrazione che gli impegni assunti dalla regione Marche sulla sanità del territorio sono mantenuti mentre la regione è al lavoro per la realizzazione della nuova struttura Marche Nord il Santa Croce a Fano così come il San Salvatore a Pesaro devono continuare ad essere perfettamente efficienti e a rispondere adeguatamente ai bisogni di salute bene prezioso e irrinunciabile e il 3 agosto invece prenderà via Notturno Cinema la rassegna a cura di Fiorangelo Pucci direttore artistico del Fano International Film Festival tutti i giovedì fino al 24 agosto sono in programma 4 appuntamenti all'insegna dell'umorismo di Jacques Tati regista, attore, mimo e sceneggiatore francese le sue trovate comiche ma i volgari sono totalmente ispirate alla vita quotidiana i film saranno proiettati nel giardino della Mediateca Montanari Memo e l'ingresso sarà gratuito inoltre le proiezioni sono riservate agli iscritti previa prenotazione il programma dettagliato con i titoli dei film verrà fornito a tutti coloro che prenoteranno ed ora vi facciamo vedere un servizio che più colorato di Così non si può lo ha realizzato Simona Zonghetti per l'edizione 2017 di Colora la vita dell'Avis è stata una notte speciale, quasi magica quella che ha riempito di allegria il circuito Marconi di Fano per il terzo anno consecutivo è stata infatti una grande festa sabato sera per Colora la vita l'evento organizzato dal gruppo giovani dell'Avis per promuovere la donazione di sangue Circa 900 sono state le persone che hanno preso parte alla corsa più colorata della provincia consolidando così il successo della Color Run tutta made in Fano Possiamo dire che questa Fluo Edition è stata un successo? Un successo proprio perché inaspettato grazie ancora al gruppo giovani dell'Avis di Fano hanno avuto una grandissima idea di fare questa edizione in notturna con questi palloncini colorati a led questi braccialetti che veramente hanno illuminato ancora di più le parole del dono quindi complimenti a tutti quanti complimenti a chi ha partecipato a questa terza edizione e siamo sicuri che ancora la prossima sarà ancora più bella Volti dipinti, abiti piacevolmente sporcati musica e intrattenimento hanno fatto divertire grandi e piccini che hanno percorso due giri di pista e ogni 500 metri i volontari dell'Avis erano pronti a gettare addosso ai partecipanti delle polveri colorate e anallergiche e biodegradabili rosa, blu, giallo, arancione, verde tutti colori che hanno animato una calda notte d'estate Ciao Fano TV questa sarà una bella corsa comunque vinceremo noi musica musica a portare il suo saluto anche Ivan Cottini il testimonial dell'associazione italiana Sclerosi Multipla che tra sorrisi e selfie non è voluto mancare all'evento benefico e poi tra l'altro io ero un ex donatore prima che mi ammalassi e quindi per me era importantissimo esserci ho un po' scombustolato la mia tabella dei farmaci e degli impegni che avevo oggi ma ci voleva essere a tutti i costi un abbraccio lo diamo insieme insieme a Giovanni che ci aiuta tutti i partecipanti saluteranno questa terza edizione di Colora la vita benissimo coloratissimi insomma non oso pensare come è stata ridotta la nostra telecamera ma va bene così ed ora diamo la parola alla redazione sportiva per gli accadimenti del fine settimana scatterà domenica 6 agosto la Coppa Italia di Serie C di calcio anche se per vedere scendere in campo l'alma occorrerà attendere fino a domenica 13 quando i Granata affronteranno la perdente della sfida tra Ravenna e Sant'Arcangelo le due formazioni inserite nel triangolare dal quale scaturirà la formazione che proseguirà la sua corsa intanto sabato sera la nuova alma di Cuttone ha ben figurato al Manuzzi di Cesena al cospetto della formazione locale uscendo sconfitta per 1-0 ma giocando alla pari con una squadra di rango e blasone superiore in attesa degli impegni ufficiali per quanto riguarda il calcio dunque spazio a tanti altri sport a cominciare dal volley con due importanti notizie di mercato la prima arriva da Fano dove in casa Virtus è andata in scena una vera e propria operazione nostalgia sulla panchina bianco-rossa infatti a fianco del tecnico Andrea Radici siederà nel ruolo di vice Giuseppe Sorcinelli storica bandiera del volley virtussino con alle spalle esperienza da vendere con oltre 10 anni in a 1 Radici e Sorcinelli guideranno la prima squadra che ricordiamo ha acquisito i diritti per partecipare alla B e giocherà le partite casalinghe la domenica pomeriggio al Palas Aiende novità importanti anche sul fronte APAV Calcinelli Lucrezia la società di Patron Cenerilli infatti è riuscita nell'impresa di riportare dalle nostre parti Giuseppe Galli allenatore con trascorsi in Serie A e nazionale che avrà il compito di guidare la squadra femminile di Serie D timoniere della formazione maschile sarà invece Marcello Ippoliti che prende il posto di Nico Agricola le nostre telecamere hanno seguito la conferenza di presentazione dei due tecnici che sarà trasmessa ai prossimi giorni su Fano TV dobbiamo far tornare a crescere i nostri giovani lo si può fare solo lavorando tecnicamente bene in palestra ed è per questo che abbiamo allargato anche il team di allenatori cercando sempre le eccellenze e con due capi allenatori così siamo sicuri che il futuro dell'APAV è garantito un grazie va anche ai dirigenti che stanno facendo un lavoro straordinario e con i quali ci stiamo garantendo un futuro che è quello degno di questa società è una società questa che ha 310 atleti iscritti numeri davvero importanti abbiamo fatto quest'anno un lavoro in 7 istituti scolastici un lavoro anche la mattina presso le scuole quindi una presenza puntuale di questa società è una società questa che gestisce in totale 5000 ore annue di palestra tra gli impianti di Lucrezia e Calcinelli insomma uno sforzo straordinario e grazie ai comuni di Cartoceto e di Colli al Metauro tutto questo ci è reso possibile dal parquet del volley ci spostiamo sulla sabbia nello specifico quella del Beach Stadium di Marotta dove nel weekend si sono svolti i campionati regionali di beach tennis di terza e quarta categoria 3 gli ho riconquistati da atleti fanesi nel doppio femminile 3.1 vittoria per Deborah Guidi e Laura Pagnoni su Gloria Alessandrelli e Marica Colonna vittoria anche nel doppio misto 4.1 grazie al giovane Matteo Mancini che in coppia con la pesarese Giulia Renzi ha avuto la meglio su Silvia Sgarzini e Luca Spendolini lo stesso Spendolini si è però rifatto nel singolo 4.1 superando in una finale tutta fanese l'amico Davide Mazzanti restiamo sulla sabbia ma trasferiamoci a Cervia dove domenica è andato in scena l'atto conclusivo della Bobo Summer Cup torneo esibizione di foot volley organizzato dall'ex calciatore Cristian Vieri con i proventi devoluti in beneficenza tanti gli sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo che hanno preso parte all'evento tra cui anche i fanesi Riccardo Baldrati e Giovanni Pagnoni che dopo aver vinto la tappa preliminare ieri sono scesi nell'arena di fronte a 1200 spettatori sotto lo sguardo vigile del Bobo Nazionale dopo aver superato due turni ed eliminato la coppia VIP composta da Davide Bombardini e Aldair Nascimento Dos Santos bandiera della Roma meglio conosciuto come Pluto i due fanesi hanno ammainato bandiera bianca in semifinale ma hanno ricevuto comunque i complimenti di campioni del calibro di Daniele Adani Ruggero Rizzitelli e Marco Del Vecchio e di personaggi dello spettacolo come Frank Matano e Alessandro Cattelan e ricevere complimenti nel weekend è stato anche il tredicenne Marco Gaggi astro nascente del motociclismo provinciale che in sella alla sua Yamaha ha conquistato pole position e vittoria nel quarto appuntamento del campionato italiano velocità pre-moto 3 quattro tempi il tredicenne fanese sul circuito di Misano ha tagliato il traguardo davanti a tutti in gara 1 mentre si è dovuto accontentare del quarto posto in gara 2 quarto come il piazzamento in classifica generale che l'atleta della SD Action Motor Racing di Fano proverà a migliorare già dal prossimo appuntamento in programma al Mugello il 23 e 24 settembre Bene, piccoli campioni crescono archiviato lo sport prima di lasciarvi io vi ricordo che alla BCC Arena questa sera per Teatro Sotto le Stelle si esibirà la compagnia Il Buffo con la commedia Ence più rimedi per la regia di Andrea Boni naturalmente l'appuntamento è alle 21.15 alla BCC Arena qui a Tre Ponti dopo di noi box poi in cucina con lo chef e uno speciale sul CSI di Fano questo è tutto per questa sera grazie per essere stati in nostra compagnia ho quella notizia torna domani sera alle 20.30 buona serata a tutti voi attenzione